Per il nostro viaggio al Music Messe siamo partiti da Torino-Portasusa dove con questo treno abbiamo raggiunto Milano Centrale. Qui io e Danilo abbiamo raggiunto Marco per andare a Dorio al Serio, aeroporto da cui abbiamo preso questo aereo per arrivare finalmente a Francoforte. Ecco che cosa abbiamo visto in fiera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.